Sabato 19 settembre alle ore 18.30 prende il via la stagione 2020-2021 del Valle Soverato. Prima giornata, appuntamento casalingo al Palascoppa, si ospita la neopromossa Megabox Vallefoglia. Subito un test probante per il Valle Soverato dopo quasi due mesi di intenso e duro lavoro. Sì, è una squadra che al di là del nome, che è un nome nuovo, comunque dietro c'è una società storica, parliamo di Pesaro fondamentalmente. Una squadra ben costruita, è stata la prima a cominciare dopo la ripresa degli elementi, il 13 luglio, ed è una partita difficile come tutte le partite che segnano l'inizio di una nuova stagione. A maggior ragione di questa stagione, con tutte le incognite che ci riserverà, la ripresa dopo un lungo stop, non sarà una partita facile. Bisogna avere tanta pazienza, giocare la palla su palla, trovare subito gli adattamenti giusti contro un avversario che conosciamo poco, non avendo giocato tanti amichevoli, anche se è composta da giocatrici esperte che sicuramente ci daranno filo da torcere. Il Valle Soverato invece parte con tanti volti nuovi, squadra giovanissima anche quest'anno, nelle ultime settimane ci sono stati degli allenamenti congiunti importanti che avranno potuto chiarire ulteriori dubbi su questo lungo precampionato, una squadra che però ai nastri di partenza si presenta con molta fiducia in virtù anche dei risultati ottenuti dalla società negli scorsi anni. Abbiamo proseguito questa idea di una squadra ancora giovane, ancora più giovane degli altri due anni, sicuramente è una scelta difficile ma che comunque, almeno dal mio punto di vista, è molto stimolante perché sono tutte ragazze col quale si lavora molto molto bene, molto talentuose, che hanno sicuro avvenire, quindi stimolo e responsabilità allo stesso tempo. Abbiamo fatto cinque amichevoli, sono molto contento di questa cosa perché non era così scontato poterle fare, grazie alla disponibilità di Cutrofiano e di Marsala. Abbiamo diverse alternative, dovremmo purtroppo fare a meno dell'opposto titolare della slovena, di Daria Erzen, però ciò non toglie che abbiamo delle buone alternative, Chiara Bianchini, una ragazza del 2001 che la sostituirà, devo dire è cresciuta tantissimo in questi 40 giorni, soprattutto nelle ultime settimane, non sembra avvertire la responsabilità, il peso di un qualcosa per lei nuovo, considerando che sono tutte ragazze che vengono da categorie inferiori o addirittura, come nel caso di Chiara Bianchini, viene dall'under 18 di Novara, quindi sicuramente un test probante, soprattutto in temi di responsabilità, ma l'ho vista bene in allenamento, sono sicuro che si divertirà insieme al resto delle compagne. La squadra credo che sia pronta, abbiamo ancora tanto da migliorare, tante cose su cui lavorare, però i 40 giorni che abbiamo fatto sono stati 40 giorni in cui siamo cresciuti tantissimo, per cui mi auguro e spero di vedere una squadra che sta bene in campo e che gioca col piacere di divertirsi. Girone Est, quello in cui è inserito il lavoro di Soverato, composto da nove squadre, Girone Ovest composto da dieci squadre, che stagione si attende il coach napolitano? Io l'ho già dichiarato, questa è una stagione che a discapito del lockdown e delle incertezze, rivedo una o due di altissimo livello, basta pensare Talmasson con Tirozzi, Roma con Papa e Sartori, è una o due secondo me di alto livello. I dei gironi sono dei gironi secondo me equilibrati, sicuramente bisognerà capire un po' il discorso dei punti, essendo il nostro girono al 9 e l'altro al 10, come interpretarlo, considerando che non ci sarà la stessa distribuzione di punti a cui siamo abituati solitamente. Un girono è il nostro difficile, soprattutto perché come al solito ci muoviamo tanto, a partire dalla seconda e terza di campionato, dove andremo Martignacco e Ravenna, a due campi difficili, con due formazioni ormai storiche, consolidate in due, per cui due trasferte non facili e anche lì saremo tanto più bravi quanto riusciremo ad adattarci anche per quelli che saranno gli spostamenti ai viaggi, a maggior ragione in una situazione di incertezza come questa appunto che stiamo vivendo, per cui gli spostamenti non saranno semplici, deve essere molto bravi, rimanere tranquilli, sereni, il campionato è lungo, gestirlo palla su palla, partita dopo partita. Con il direttore Antonio Vagliengo commentiamo questo inizio del campionato 2020-2021, undicesima stagione consecutiva in Serie A2 per il Valle Soverato, si parte con un impegno casalingo sabato pomeriggio contro la neopromossa Vallefoglia, un soverato che si presenta ai nastri di partenza con rinnovata fiducia, complice anche le ultime stagioni che sicuramente sono state molto positive. Sicuramente l'idea nostra è di continuare questo trend positivo e di partire col piede giusto. Chiaramente la situazione è tutta a un divenire, è legata alla situazione ambientale che il virus del Covid ha provocato e ha generato, però sicuramente la squadra è pronta e preparata e lo staff tecnico ha agito al meglio. Quindi ripartiamo con rinnovate ambizioni per la stagione 2020-2021. Allora diamo anche qualche delucidazione ai tifosi in vista della partita di sabato, proprio in virtù di questa situazione anomala generata dal Covid-19 con vari protocolli che ovviamente devono essere seguiti, forniti dalla Federazione e dalla Lega. Quindi come si potrà assistere alla partita ovviamente con tutte le misure di sicurezza del caso? Stiamo lavorando anche perché l'ultimo protocollo, l'ultima versione, che è la versione 2 della Lega legata proprio alle prossime partite di campionato è giunta nel pomeriggio di ieri, per cui chiaramente ci stiamo attivando per applicare tutti i protocolli e per poter lavorare in sicurezza per tutti. Sicuramente l'obiettivo è quello di far poter, rispettando le regole, di far intervenire il pubblico e proprio con le istituzioni stiamo lavorando in queste ore per capire la massima capiezza possibile al Palascopa per domenica, per far sì che più gente possibile ci si possa star vicino. Infine un giudizio anche sul roster bianco-rosso, allestito quest'anno, una squadra da lavoro in corso come tutte in questo periodo, un roster ampiamente rinnovato, tante giovani e tanti elementi di qualità anche. Sicuramente è un roster accattivante, un roster giovane, con molta tecnica, molta fisicità e che sicuramente farà risaltare le capacità del nostro staff che è di primissimo livello. Ne approfitto per questa intervista perché è cosa di queste ore, ci ha lasciato Daria Erzen, la ragazza slovena, e per scelta tecnica noi stiamo operando sul mercato e molto presto annunceremo l'arrivo del nuovo posto che arriverà nei prossimi giorni.